il buco morte causata da percosse e ferite questo era il capo d'accusa per cui compariva davanti alla corte d'assise il signor leopold renard tapeziere intorno a lui stavano i principali testimoni la signora flamèche vedova della vittima lui la durò operaio ebanista jean d'ordain idraulico accanto al colpevole sua moglie vestita di nero brutta una scimmia vestita da donna ed ecco come renard leopold raccontò il dramma io mio è una disgrazia di cui sono io la prima vittima e in cui non c'entra per niente la mia volontà i fatti si commentano da soli signor presidente io sono un uomo onesto un lavoratore faccio il tapeziere sempre nella stessa strada da 16 anni conosciuto amato rispettato stimato da tutti come hanno confermato i vicini perfino la portinaia che non è tutti i giorni di buon umore io amo il lavoro sono risparmiatore amo le persone oneste e divertimenti onesti questa è stata la mia rovina tanto peggio per me la mia volontà però non c'entra e io continuo ad avere la coscienza a posto dunque tutte le domeniche mia moglie qui presente e io da cinque anni andavamo a passare la giornata a poassi andiamo a respirare un po di aria buona e in più ci piace la pesca con la lenza è me lì che me l'ha comunicata questa passione proprio lei che ne va matta più di me quella disgraziata visto che in questa faccenda tutto il male dipende da lei come capirete da quanto sto per dire io sono serio e buono non mi arrabbio per delle sciocchezze ma lei a vederla non si direbbe così piccola così magra eppure è più perfida d'una faina non nego che abbia delle buone qualità ne ha ed è importanti per un commerciante parlatene nel vicinato e con le portinaia che ha deposto poco fa e ve ne diranno delle belle tutti i giorni mi rimproverava la mia arrendevolezza io non mi lascerei far quello ci avessi dovuto darle retta signor presidente avrai fatto a cazzotti almeno tre volte al mese la signora renar l'interruppe parla pura riderà bene chi riderà ultimo egli si voltò verso di lei e disse candidamente ebbene io posso darti addosso finché voglio perché non sei in causa tu poi rivolgendosi di nuovo al presidente ora vado avanti disse andavamo dunque a possì tutti i sabati sera per pescare all'alba del giorno dopo è per noi un'abitudine che è diventata come si dice una seconda natura io avevo scoperto saranno appunto tre anni questa estate un posto ma un posto all'ombra almeno otto piedi d'acqua o forse dieci un buco un botro vicino all'argine un vero vivaio di pesci un paradiso per il pescatore quel buco signor presidente io potevo considerarlo come mio poiché infine ero stato io il cristoforo colombo che l'aveva scovato tutti in paese lo sapevano tutti lo riconoscevano dicevano quello è il posto di renar e nessuno ci sarebbe venuto nemmeno il signor plumò che è noto si ha detto senza offenderlo per rubare il posto agli altri perciò sicuro del mio diritto vi tornavo come padrone appena arrivato il sabato io salì sul dalila con mia moglie dalila è la mia norvegese una barca che ho fatto costruire da furnes leggera e sicura dico dunque che eravamo saliti sul dalila e andavamo a preparare le esche per far questo non ci sono che io lo sanno bene i compagni voi mi domanderete come preparo le esche non posso rispondere non riguarda il processo è un mio segreto più di 200 persone me l'hanno domandato me ne hanno offerte di bicchierini e delle fritture e zuppe di pesce per farmi cantare ma aspetta pure che vengano le argentine ah sì me ne hanno dette e fatte per sapere la mia ricetta non c'è che mia moglie che la conosca ma lei non aprirà bocca più di me non è vero me lì il presidente le interruppe venite al fatto il più presto possibile l'imputato riprese arrivo arrivo dunque sabato 8 luglio prendemmo il treno alle 5.25 prima di pranzo siamo andati a gettare l'esca come tutti i sabati il tempo prometteva bene io dicevo a me lì che pacchia domani lei rispondeva sì certo non parlavamo mai più di così ritornammo per il pranzo io ero contento avevo sete questa fu la causa di tutto signor presidente disse a me lì senti me lì se bevesse una bottiglia di berretto da notte è questo un vinello bianco che abbiamo battezzato a quel modo perché se ne bevo troppo vi impedisce di dormire e fa le veci del berretto da notte mi spiego? lei mi rispose fa pure ma non ti farà bene e domattina non potrai alzarti questo era vero era saggio prudente era perspicace lo confesso non di meno non seppi trattenermi e bevi tutto dipese da questo non riuscii quindi a dormire cristo l'ho avuto nello stomaco fino alle due del mattino questo berretto da notte di succo d'uva e poi panfete io m'addormento ma in modo da non sentir suonare l'angelo del giudizio universale in breve mia moglie si sveglia alle sei io salto giù dal letto infilo in fretta i calzoni e il giubbotto una sciacquata alla fazza e saltiamo sul dalida troppo tardi quando arrivo al mio buco lo trovo occupato non mi era successo mai signor presidente mai da tre anni a questa parte e mi ha fatto l'effetto che mi derubassero sotto i miei occhi io dissi per dio per dio per dio ed ecco mia moglie che comincia a puntecchiarmi il tuo berretto da notte è soltanto un ubriacone sei contento cretino era vero e io non dissi niente sbarco lì vicino per cercare di approfittare di quel che restava poteva anche darsi che quell'altro non prendesse nulla e se ne andasse era un ometto magro vestito di tela bianca con un gran cappello di paglia c'era con lui sua moglie un donnone che ricamava seduta dietro a lui quando vide che ci installavamo là vicino ecco che l'hai brontola non ci sono altri posti sul fiume e la mia risponde con la rabbia in corpo le persone educate si informano delle abitudini di un paese prima di occupare i posti riservati siccome io non volevo storie le dissi tacimeli lascia perdere vedremo poi dunque avevamo attaccato Dalila sotto i salici eravamo discesi e pescavamo gomito a gomito Melì ed io proprio a fianco degli altri due qui signor presidente è necessario che entri nei particolari non erano passati cinque minuti da quando eravamo là quando l'amo del mio vicino va sotto due volte tre volte ed ecco che torna su con un'argentina grossa come la mia coscia forse un po' meno ma quasi il cuore mi batte ho il sudore alle tempie e Melì che mi dice eh caro il mio ubriacone l'hai visto quello là in quel momento passa la barca del signor Brou il farmacista di Poissy un amatore di Ghiozzi e mi grida vi hanno preso il vostro posto signor Renard io gli rispondo sì signor Brou c'è al mondo qualche stronzo che non rispetta le usanze l'omino l'ipresso aveva l'aria di non sentire e nemmeno sua moglie quella cicciona una vera vacca il presidente interruppe una seconda volta attento vuoi insultate la vedova flamesce qui presente Renard si scusò chiedo scusa è la passione che mi tracina dunque non passa un quarto d'ora che l'ometto prende un cavedano e poi un altro quasi subito e un altro ancora dopo cinque minuti io avevo le lacrime agli occhi e per di più dovevo ascoltare la signora Renard che friggeva e mi tempestava senza requi oh per la miseria non vedi che te lo ruba il tuo pesce non lo vedi tu non prenderai nulla tu nemmeno un ranocchio nulla di nulla vedi io mi sento il fuoco nelle mani solo a pensarci io dicevo tra me aspettiamo a mezzogiorno andrà a colazione quello là e io riprenderò il mio posto infatti io signor presidente faccio colazione sul luogo tutte le domeniche con le provviste che portiamo dal Dalila ah sì suona a mezzogiorno lui aveva un pollo dentro un giornale quel disgraziato e mentre mangia ecco che prende un altro cavedano Melì e io mangiamo un boccone così su dei piedi quasi niente ce ne manca il cuore allora per digerire prendo il mio giornale tutte le domeniche come quella io leggo il Gilles Blas all'ombra in riva all'acqua è il giorno di Colombina sapete bene Colombina quella che scrive articoli nel Gilles Blas di solito faceva arrabbiare la signora Renard dicendo di conoscerla questa Colombina non è vero non la conosco non l'ho mai veduta ma non importa scrive bene e poi dice delle cose molto franche per una donna a me piace non ce ne tante come lei ecco dunque che comincio a punzecchiare mia moglie ma lei si arrabbia d'improvviso e strilla allora sto zitto è in questo momento che arrivano dall'altra parte del fiume i nostri due testimoni eccoli i signori Laduro e Dourdan ci conoscevamo di vista lo metto vestito di tela si era rimesso a pescare e ne prendeva di pesci e io tremavo e sua moglie comincia a dire il posto è veramente buono ci torneremo sempre desirè io mi senti un brivido lungo la schiena e la signora Renard ripeteva tu non sei un uomo tu non sei un uomo hai il sangue di pollo nelle vene ad un tratto le dissi senti preferisco andarmene per non commettere qualche sciocchezza e lei mi soffia sulla faccia come se m'avesse messo un ferro rovente sotto il naso non sei un uomo ecco adesso te ne vai tu rinunzi al posto va dunque Bazin ebbene mi senti scosso tuttavia non scattai ma l'altro pesca una reina oh non ne ho mai visto una così mai ed ecco di nuovo mia moglie che parla forte come se stesse pensando vedete qui la sua malizia stava dicendo sarebbe il caso di chiamarlo pesce rubato perché le esche di questo posto le abbiamo messe noi bisognerebbe almeno restituire il denaro speso per l'esca allora il donnone dell'ometto risponde a sua volta ce l'avete con noi signora io ce l'ho coi ladri di pesci che approfittano del denaro speso dagli altri saremmo noi i ladri di pesci ed ecco che vengono alle spiegazioni e poi vengono parole cristo ne conoscevano quelle due streghe e di che forza urlavano così forte che i nostri due testimoni che erano sull'altra riva si mettono a gridare facendo imbuto con la mano ehi laggiù un po' di silenzio impedita ai vostri mariti di pescare il fatto è che l'ometto ed io eravamo lì immobili come due pezzi di legno restavamo là col naso sforto sull'acqua come se nulla avessimo udito ma intanto sentivamo bene e come se sentivamo fogna mignotta voi siete qua voi siete là un marinaio non ne sa di più di parolacce d'improvviso sento un rumore dietro di me mi volto era l'altra il donnone che piombava su mia moglie a colpi d'ombrello paff paff melina incassa due si infuria e quando è furiosa picchia così afferra la grazzone per i capelli e giù schiaffi che piovevano come prugne io le avrei lasciate fare donne e uomini fra loro non bisogna intromettersi ma l'ometto si alza come un diavolo e fa per avventarsi su mia moglie ah no ah no non si fa così amico gliele do io a quell'uccellaccio là un pugno sul naso un altro sul ventre lui alza le braccia le gambe e cade supino nell'acqua proprio dentro al famoso buco io l'avrei certamente ripescato signor presidente se ne avessi avuto il tempo subito ma per colmo il donnone in quel momento aveva il sopravvento e le stava dando a me lì di santa ragione so bene che non avrei dovuto soccorrerla mentre l'altro beveva ma io non pensavo che sarebbe annegato dicevo bah si rinfrescherà le idee corro dunque verso le due donne per separarle e mi piglio pugni graffi e morsi che bestiazze accidenti a dir breve mi ci vollero cinque minuti forse dieci per separare quelle furie mi volto più nulla l'acqua calma come un lago e gli altri laggiù che gridavano ripescatelo ripescatelo sia un bel dire ripescatelo ma io non so notare e tuffarmi tanto meno finalmente è arrivato il sorvegliante della diga e due signori con dei ramponi l'hanno lavorato per un buon quarto d'ora lo hanno trovato in fondo al buco sotto otto piedi d'acqua come avevo detto io ma era morto povero ometto vestito di bianco ecco i fatti tali e quali lo giuro io sono innocente sul mio onore i testimoni deposero nel medecimo senso l'imputato fu assolto che c'è l'imputato fu assolto l'imputato fu assolto l'imputato fu assolto l'imputato fu assolto